Anita espone accuse a Alfonso Signorini nel buio del Grande Fratello. Nella recente puntata del Grande Fratello, alcuni concorrenti, credendo che la diretta fosse terminata, hanno iniziato a discutere di votazioni, nomination ed eliminazioni. Tuttavia, prima di questo momento, Anita Olivieri, insieme a Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese, era già coinvolta in una conversazione sulla concorrente Beatrice Luzzi. Pensando di essere al sicuro nell'oscurità e con la fine della trasmissione, i partecipanti al Grande Fratello hanno scambiato confidenze, coinvolgendo anche Alfonso Signorini. Luca era gay, un concorrente, è entrato nella stanza e ha rivelato di aver sentito commenti negativi su di lui provenienti da Beatrice. Anita è intervenuta, menzionando il conduttore del Grande Fratello, dicendo, Hai detto che Cesara ti salva spesso? Invece Alfonso le disse. Se Alfonso non c'era, arrivederci. Se lui non fosse stato lì, dopo di lei, dimenticatelo. Il significato esatto delle parole di Olivieri riguardo a se non ci fosse Alfonso è ambiguo. Potrebbe suggerire che, secondo lei, Beatrice è ancora nel Grande Fratello a causa di Alfonso. La critica di Signorini a Luzzi è stata nota in diverse occasioni, ma sembra che non sia sufficiente per Olivieri. Forse, per lei, il conduttore avrebbe dovuto unirsi a coloro che criticano le sue attrici usando metodi discutibili. Resta da vedere se Anita avrà il coraggio di ribadire tali affermazioni durante la trasmissione.